Con i bandi europei, con tutta la programmazione che è sempre nata anche sulla formazione, sulla specializzazione dei nostri giovani, possono dare un valore aggiunto nel momento in cui abbiamo parecchie aziende del settore moda che chiedono delle figure particolari, importanti dalla parte più piccola come può essere le orlatrici oppure chi realizza la parte di montatura della calzatura, ma io andrei anche sulla parte della digitalizzazione, del design, utilizzando i sistemi digitali. Oggi abbiamo bisogno anche di nuovi tecnici che sono all'interno della filiera produttiva del mondo della moda. Oggi i fondi sono importanti, ma altri sì, devono essere importanti anche la semplificazione burocratica per far sì che questi fondi possano arrivare alle nostre imprese e attivare quei percorsi formativi che sono utili per far inserire i giovani nel mondo del lavoro. È un bel momento secondo me, a livello internazionale lo abbiamo visto con la 32esima convention mondiale delle Camere di Commercio Italiane all'estero che abbiamo fatto qui nelle Marche i primi di giugno. Tutte le imprese, erano oltre 350 imprese che hanno partecipato ai B2B, hanno lasciato un segno importante a tutti quanti i delegati che venivano dai cinque continenti a rappresentare tutto il mondo camerale che noi abbiamo negli altri paesi. Hanno apprezzato l'altissima qualità dei nostri imprenditori, l'altissima qualità dei prodotti e dei materiali che hanno fatto vedere, ma anche la professionalità. Adesso noi dobbiamo lavorare a far sì che i nostri imprenditori possano continuare ad avere una forza lavoro importante, adeguata per il momento, adeguata anche per i nuovi sistemi produttivi che si stanno mettendo in campo. Oggi abbiamo necessità di ricollocare sul mercato anche non solo i giovani, ma anche chi magari ha perso il lavoro con altre aziende che hanno chiuso o ci sono altri sistemi. Lo possiamo fare con questi bandi, lo possiamo fare attivando tutto quello che è insito nella comunità europea e nei bandi insieme alla Regione. La Regione sta lavorando veramente molto bene, informando il più possibile i territori e dando la possibilità alle Imbresi di poter prendere questi fondi. Grazie. 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 Grazie.